Siamo tornati nella vanilla e quest'oggi, come vi avevamo promesso, puntiamo a farci il passaggio segreto Quindi abbiamo bisogno di slime, quindi siamo finiti in una palude lontanissima da casa nostra Siamo tipo, non lo so, mi stiamo a un mille blocchi di distanza Però verso il lato dove non c'è nessuno con la propria casa, quindi questa parte è proprio dispersa nel mondo Penso che nessuno sappia neanche che esiste, Steph Esatto, e siamo qui per fare che cosa? Per prendere gli slime ball, per fare i pistoni appiccicosi Sì, Steph, esatto, ci servono esattamente quattro slime ball Ok, ma non dovrebbe essere prendere i pistoni Non sono tantissime, quindi comunque non è una tragedia, non è che ne dobbiamo prendere chissà quante No, però io sono voluto venire qua, cioè nel senso abbiamo cercato una palude piuttosto che andare sottoterra a cercarli disperatamente Perché vorrei, nel possibile ovviamente, farne un pochino perché non c'ho voglia ogni volta di tornare Poi so che si possono fare, ad esempio, le farm, però noi non le sappiamo fare Però magari ci insegnerete, sarebbe una cosa veramente fantastica perché io ad andare a cercare gli slime ball ogni volta non ne voglio E infatti, Steph, l'obiettivo è prenderne comunque in avanzo Per averne, non dover sempre passeggiare da una parte all'altra del mondo Allora, io la spada è in diamante, quindi fammi andare comunque in prima linea Ah, io mi sono identificato Pollo, levati che se no fai una brutta fine Ho iniziato il viaggio senza riprendere una cosa del genere Io ne ho già trovato due e tre Ah, ma qui ce ne sono tipo quattro qui sotto Appena finisco un attimo gli slime piccoli Sì, Fede, ma è normale, ne danno veramente date Guarda, io ne ho già quattro, quindi comunque tecnicamente siamo già a posto Però facciamo tutti gli slime, dai, 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 dai Io ne ho visto altri Qui, 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 guarda, non l'avevi visto? No Qui dietro ce n'è uno Allora, mangio, 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 mangio tutto il tempo Comunque devi sapere che il nome è Sputacchio, è piaciuto tantissimo i consulini Quindi mi serve una name tag, lo devo nominare e farà parte per sempre No, Steph, dai, è orribile Per di più ho letto qualche commento che c'era tipo Si vede che ha talento per fare il cecchino su Fortnite Ah, quello l'ho letto anch'io, l'ho letto anch'io e mi ha fatto troppo ridere Mi ha fatto molto ridere Quindi sono d'accordo con loro, deve far parte della serie Sputacchio Di conseguenza ha bisogno del suo nome ufficiale Fede, siamo già pinizeppi, io ne ho nove Io ne ho dieci, ne abbiamo già venti Cioè, io sinceramente non mi ricordavo neanche che ne droppassero così tanti Perché, Fede, guarda che se ricordo bene Era un po' preoccupata però Fino ad ora ne avevamo ucciso o uno o due, capito? È normale Allora, vai, 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 distruggi Poi secondo me qualcuno ce ne aveva pure rubato, però non ne sono sicura Potrebbe essere, sinceramente Non voglio accusare nessuno Esatto, tra tutti gli scherzi che ci sono stati Con quei disordini che abbiamo noi nelle casse ho troppi dubbi nella mia vita Esatto, quindi Non ci capisco mai nulla Meglio pensare che siamo noi disordinati, Steph Allora, ce ne dovrebbero essere altri, credo? Non lo so, io non ne ho visto altri, eh Vediamo un pochettino Forse sono finiti così Considera che io ne ho venti Io ne ho quindici Diciannove, anzi Cioè, contando che al momento ce ne servono quattro Direi che in avanzo ne abbiamo parecchio, eh Però Cavolo Se ne vedo altri uno o due, io me li prendo volentieri Io comunque voglio anche questi fiori celesti perché sono veramente belli Prendili, sì, li mettiamo nella casa Possono sempre far comodo Ne prendo un po', tanto visto che è pieno Tanto male che vada Li usiamo per fare i colori Allora, qua c'è un ragno Ma tanto non mi attacca Quando, visto che siamo qui Dove sei finito, Steph? È che non ho voglia di rifarmi subito il viaggio al contrario Anche se poi tra poco dovremo andare È di fare qualche albero Perché così abbiamo della legna un po' diversa Bah, se vuoi prenditeli E com'è? Per non avere sempre la gianca A me non piace sto colore Buono, è carino Ta 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 Ok Un altro po' di canna da zucchero che può far comodo Perfetto Vediamo, ne prendo ancora un pochino qua in giro Opla Secondo me può bastare avanzare Credo che non siano spawnati altri slime durante la notte quando stavamo arrivando E quindi o aspettiamo un'altra notte e ne distruggiamo un altro bel po' O ce ne andiamo Che dici? Non lo so, sono indeciso Ti ripeto, io sto prendendo un sacco di oak E quindi almeno possiamo fare delle cose differenti in base E poi vedi tu Io sto accumulando un po' di lana Quindi anche quello è molto utile Perché purtroppo nella nostra zona l'oac scarseggia Cioè a meno che non vai poi a prenderti gli alberi Non lo so, nelle zone di nato Sì, vabbè esatto Non è così lontano Dai, da questo qua un po' ne sto formando Che comunque va sempre comodo Non lo so, dimmi te Se vuoi tornare indietro, torniamo indietro Altrimenti aspettiamo un'altra notte Ma allora per me possiamo aspettare Ok, perfetto Tanto continuo A far fuori le povere pecorelle Tanto non è proprio un habitat bellissimo Io mi sento sempre in colpa Devevo fare Minecraft versione vegetariano Eh, sono d'accordo, sono d'accordo Che poi parlo Alla fine ti fai una farm di anguria E campi all'anguria forever Però non è proprio comodissimo Eh, non è una cosa bellissima Però che ci si può fare Cavolo, ho l'inventario pieno E volevo prendere un po' di alberelli Perché così poi te li pianti vicino a casa, capito? Cosa butto? Tipo questi stivali in pelle Che non so, ho mezzorotti Che non so neanche dove ho trovato Va, così mi prendo gli alberelli Ok Eh, ottimo, li pentiamo vicino a casa Ferre, ma è ancora mezzogiorno Io non c'ho voglia, mi sa In effetti No, in effetti il sole è ancora bello alto Ci detti Io ti direi che ce ne andiamo Iniziamo a tornare indietro? Sì Piano piano Ci mettiamo una vita Vabbè Ferre, quello che ci mettiamo Ci mettiamo Non so perché siamo venuti senza cavallo Anzi, io in realtà per me stesso lo so Poi Ferre ha preso le sue conclusioni da sola Io non volevo rischiare Perché Rischiere cosa? Il mio cavallo Ti metto a piedi Tu mi hai detto È vicino alla palluda Alla fine non era vicina Quindi abbiamo camminato un sacco No, però io non volevo rischiare Il mio povero cavallino È poverino Ce l'ho da poco Di perderlo? Eh sì Perché lo perdi? Dici che lo perdi ad andare in viaggio? Eh no, ma vedi Se ti attaccano tanti mostri Riescono a sconfiggerlo Eh no, in effetti In effetti qua ce n'erano tanti Perché siamo arrivati Che ovviamente stava facendo notte E tipo a Steph è esploso Anche un creeper in faccia Cioè sono successo un sacco di cose E poi comunque Voglio anche aggiungere Che con quel bug lì Che ogni tanto scompare Io mi sono preso un accidenti E quindi ho un po' di paura ormai Quello è vero Ho il trauma da perdita di cavallo E quindi alla fine non lo uso E quindi alla fine è inutile Però fa compagnia in casa Ok dai Steph Se vuoi possiamo iniziare a incamminarci Tanto ho preso 11 alberelli Che se me li pianto va benissimo Un sacco di legna Ti sto seguendo Ma non so se qual è la direzione giusta Perché siamo arrivati dall'altra parte Eh resti tranquilla Ti sicuro? Sì Non mi ricordo più nulla Dobbiamo tirare dritti così Per circa 10 minuti All'incirca sono 10 minuti A dopo Consolini Ok siamo arrivati Allora vediamo un pochino Io ho guadagnato 21 di carne E 12 di lana Che non è per niente male Devo ricordarmi di andare in giro con le cesoie Perché così magari ottengo anche più lana Ed è decisamente meglio Però me ne dimentico ogni volta Adesso comunque me le crafto Tanto devo andare a vedere un pochino La situazione mucche Eccetera eccetera Che come potete vedere Stanno aumentando a dismisura Allora Steph Io mi sa che inizio a craftare i pistoni Assolutamente È il tuo lavoro Altrimenti qui si rallenta troppo E non ce la facciamo mai a farlo Allora dov'è il ferro? Sai dove ne abbiamo per caso? Sì ne ho visto Qua di sicuro ne ho visto Ne ho io 18 Tieni Ok va bene Tanto non me ne serve tanto Va benissimo Facciamo così va Così dovrei potermi creare Opla Cesoie create Mi serve un po' di lana Ho le cesoie pronte per voi E che sono ancora poche le pecorelle rispetto agli altri Se avete i maialini sono diventati un botto Le mucche sono diventate tanti Le mucche fra un po' sono un esercito Mentre con le pecorelle Quante sono? Quattro so Avete fame di nuovo? Allora facciamo così Mi adatte prima di iniziare 1 2 Quando ci mettete però volete rimangiare In realtà una poi aveva fame Quindi vuol dire che manca poco Opla 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 Che belline che siete Mamma mia quanto diventano brutte Poverina Poverina Ma non prenderli in giro Steffo Ok Allora Ho preso troppa poca cobblestone Mi è finita nell'inventario Ma dimmi te quando me ne mancava uno da creare Vabbè Allora con calma Facciamo così Facciamo così Allora Facciamo Poi devo mettere la rezza Ah ne avevo già una Accidenti Vieni Forza Forza Sputacchio Ancora non ti chiami sputacchio Però Ormai lo sei già Sono deciso se metterlo Assieme al cavallo Dentro la stalla Però pure che vadano Un po' in conflitto Secondo me floppy e sputacchio Non vanno molto d'accordo Dici che litigano Che poi hai notato Steffo Che cosa? Che non avendo addomesticato l'altro È scomparso No Non ti eri ridimenticato dell'altro Che me lo volevo ottenere per me Però ci siamo dimenticati Di addomesticarlo Oggi sono entrata nel mondo Fatto Ciao bellissimo È scomparso Eh ma tanto L'importante è avere quello di Steffo Sputacchio Fere È messo molto bene È un'ottima posizione Secondo me Però adesso è felice Poi magari li costruiamo anche a lui Una casetta Però io non so fare queste cose Allora Steffo I pistoni Appiccicosi sono pronti Ok Adesso dobbiamo fare Delle anche torce di redstone Ok E qua mi pare ne servono Sì due bastano Due bastano Quindi ne faccio solo due E mi sa che abbiamo tutto La corrente Perfetto I pistoni li abbiamo Redstone Ne abbiamo a volontà Le due torce le abbiamo Sì Steffo siamo pronti Siamo pronti Sì siamo pronti Pronti partenza via Assolutamente sì Ma c'è altro ferro Ok Io ho una confessione da fare Ok A te e a chiunque Stia guardando questo video Ok Io per poter fare una porta Che si apre come un passaggio segreto In redstone Hai guardato un tutorial Ho guardato un tutorial E finì ci arriviamo tutti Spero di ricordarmelo E di non fare una brutta figuraccia Perché sapete che sia io che Steff Siamo totalmente negati in redstone Però mi sono impegnata Ho guardato un tutorial Su come funziona Su come si fanno queste cose Quindi diciamo che Almeno apprezzate l'impegno A qualsiasi stessi Il vantaggio di essere su youtube Da diversi anni È che a un certo punto Ti fai una reputazione Ah quello intendi Ok Quando ti fai una reputazione La gente sa già cosa aspettarsi Quindi da te si aspettano il nulla Di conseguenza Non puoi deludere nessuno Cioè Che cattivo che sei Steff Dai per incoraggiarti No sei una persona orribile Ascolta un attimo Ti ricordi come si fanno I bottoni Poi capirei a cosa servono E sarà la nostra chiave segreta Il bottone Capito? Sì super segreta Il momento in cui ci fai un video No è segreta Sì sì Non lo vedrà ne Allora censura questa parte Censura questa parte Perché altrimenti stiamo facendo Una porta segreta Scusami se tutti la devono vedere Non è più segreta Allora perché mi sono impegnata A guardare i tutorial Calma Porca miseria Calma Allora basta Non me ne serve altro Di complesso cotta Devo fare le cose blu E mi dispiace Ma a me la pelle Non mi cresce sugli alberi Non posso usarle Le cesare su di voi Vedete? Quindi non è colpa mia È colpa di Minecraft Andate a lamentarvi Chiedete l'aggiornamento 1.16 Ok? Allora Steff Dopo che hai finito con le mucche Mi devi dire esattamente Dove vorresti la porta segreta Ferre qua sto facendo un disastro Come stai facendo un disastro? Sì poverine Aspettatevi Beh certo le terrorizzate No comunque ho cambiato idea Però poi tiro fuori il cibo E tornano tranquille Dicevo mi serve Altra Altra cobblestone cotta Quindi la stone Perché così Tappiamo così La nostra zona segreta Così sembra che lì Non abbiamo fatto nulla Capito? Facciamo tutto un muro Aspettate qua ce l'è della cobblestone No lo faccio io Lo faccio io Ok Stavo dicendo che Prima le ho levate Perché ho detto Ah non me ne serve altre Invece sì che mi serve Perché facciamo la parete Ho sbagliato casa Scusami Come hai sbagliato casa? Sì stavo salendo su un altro albero Come è possibile? Ero confuso a fare Ma Steff È stato un brutto momento Quello con le mucche Allora l'ho messo a cuocere Così poi ne abbiamo per coprire tutto Che mi sembra la cosa migliore Io sto mettendo Perché non la voglio fare di cobblestone Di cobblestone Quindi si capisce Che tu hai levato una parete E la stai rimettendo Anche se tanto vedranno questo video Quindi i miei sforzi Sono sempre inutili Sì però almeno è più bellino Però io chiedo A chiunque partecipa in questa serie Fate finta che sia segreto Che voi non siete a conoscere Ma così fai pena a tutti Di questo passaggio E Steff Allora perché mi devo impegnare? Un po' di orgoglio Non rompere Io non devo rompere Vieni a vedere se ti piace Allora arrivo Tanto nel mentre La stone è lentissima da cuocere Ci metto un sacco di tempo Così fatto Ah lì dentro? Sì Arrivo 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 Ah sì Quindi le volevi fare tutte così Ma non sono troppo piccole No perché fai proprio gli oggetti Quindi gli oggetti singoli Fai un'infinità di chest E fai gli oggetti singoli Perché poi qua Noi le abbiamo posizionate in questo modo Ma comunque puoi fare più colonne Sì Tipo se queste le sposti Ne puoi fare davvero tante Ci sta Ci sta Ti piace? Io me lo vedo così un magazzino Secondo me è più bello Almeno posso farvi vedere già un pochino Con solini cosa potrebbe essere Allora Poi ci vorrà un po' Steff Io inizio a scavare Nel mentre che la stone cuoce E facciamo tipo che inizia qua la porta Tipo questa la porta Questa qui No la porta inizia Qui Dove? Steff ci vuole spazio Perché sotto deve avere tutto il meccanismo in redstone Scusa Ok Piano piano Quindi questa è una parete di come sarà il nostro magazzino Con item frame qua Item frame qua Item frame qua E questa sarà una zona Ogni singola chest avrà un oggetto specifico di minecraft Per essere ordinati proprio alla perfezione Guarda per ora ho fatto questo Ok Adesso bisogna tappare Tipo bisogna iniziare a mettere qua Allora Qui se non ricordo male va così Quindi Qui stessa cosa E adesso iniziamo a mettere I pistoni Appiccicosi Ti prego Poi fai che funzioni Poi qui sotto ovviamente Va tutto tappato Però non mi basta la stone accidenti Volevo fare proprio il pavimento Eh sì Se riesci sì Ok vado io Parapapapa Facciamo tipo così Corro 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 No non riesco a risalire Vabbè mi faccio una stradina qui Non è un problema Vediamo un pochino Ho rotto la scala però Ho rotto la scala però Qua c'è la carne E 16 possono bastare? Sì 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 Tanto al momento mi servono giusto per Per tappare qui sotto Allora ok Eccola qui E quindi volevo tappare Tipo Parapapapa Perché potrei farlo partire da qua Così posso farle Eh for sì Sennò Ferre mi rompe le scatole Io la conosco troppo bene Ferre Allora Steph Vuoi vedere il momento della verità? Se ho fatto un fail O se ho fatto qualcosa che funziona? Ok Quindi tecnicamente Allora tecnicamente questa La potresti far funzionare Anche con le pressure plate Sì lo so Ma ovviamente sono visibili Quindi io pensavo di usare la chiave così E funziona E poi ogni volta noi ci leviamo il bottone E niente Te lo riprendi E il tuo passaggio segreto Copri tutto Ferre Esatto Devo coprire tutto Allora Io sto cercando di finire Di ordinare la zona del chest Così almeno abbiamo già Un pochino Una direzione Poi ovviamente Devo craftare due miliardi Devo aspettare che le mucche Mi diano un botto di pelle Quindi è questione di tanto tempo Però almeno Consolini Capite un pochino L'effetto che farà tutto il posto Che secondo me è molto bello Io spero che vi piaccia Facciateci a sapere i commenti Vedete Questo sarà il risultato Ognuna avrà la tempra di mio fianco Sarà super mega ordinato Super mega cool Secondo me ci sta Alla grande Assolutamente sì Ma hai abbastanza No No vero Se ve lo faccio in cobblestone per ore Poi lo cambiamo No che brutto Vabbè allora dobbiamo aspettare Dobbiamo aspettare Vabbè lo finiamo in un altro momento Tanto è palesissimo Come funziona Qua dobbiamo cercare di arredare un minimo Per renderlo Diciamo poco Palese Mettiamola così Quindi cercheremo di fare qualcosa di carino Anche qua intorno Giusto per arredare un pochino Per distrarre Certo Quindi pian piano adesso lo finiamo E niente Noi ci fermiamo così Speriamo che questo episodio avveniva Vi sia piaciuto Qua sotto con voi altri video Iscrivetevi al canale Capellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao